1950 dopo 1950 palline ho sbagliato il palleggio raga buongiorno tutto bene? ricordo che con la prossima stagione bisogna giocare con i guanti bisogna indossare il guanto nella mano che va a impugnare la pallina possibilmente colorato così non vi rompono le scatole arbitri o giocatori quindi pallina con il guanto solito servizio e si parte ragazzi pronti col botto non 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 n non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.